Benvenuti, in questo intervento cercheremo di capire chi era Pico e cosa pensava Pico della Mirandola. Dopo gli interventi, i contributi su Ficino, su Cosano, su Machiavelli, su Bruno, era assolutamente necessario parlare di Pico della Mirandola, Giovanni Pico della Mirandola. Attenzione, Pico è difficilissimo. Parlarne in venti minuti di questioni gigantesche, quali erano quelle da lui affrontate, è sempre un azzardo. Ma tant'è, cerchiamo di mettere in luce alcuni aspetti della sua biografia e del suo pensiero, sperando che siano per voi interessanti e fruttuosi. Comunque, come dice Pico, porgete benigno orecchio nella vostra cortesia a questo mio discorso. Naturalmente è cortesia vostra, senza la quale non si fa niente. Allora, qui stiamo parlando del più originale filosofo degli umanisti italiani. Pico è umanista e anche filosofo. Ed è originale, ma come sarà originale, Cusano? Cerchiamo di capire perché. Allora, Pico si forma prima nella Padova Aristotelica, poi a Bologna studia diritto, poi nella Firenze dell'Accademia Platonica di Careggi, quindi entra in contatto con il neoplatonismo. Ci sono lettere di Pico a Ficino, come vedremo alla fine di questo contributo. Pico, e questo è un aspetto fondamentale, lavorerà sempre oscillando fra platonismo e cristianesimo. Ci sarà sempre un Dio pensato come architetto demiurgo che costruisce e come Dio padre che crea. Le figure che Pico deve tenere insieme sono gigantesche, sono Mosè e il Timeo, come diranno nell'orazione, pur distinguendole, laddove invece Ficino proponeva un'unione. Pico studia il latino, quello classico e medievale, il greco come Ficino, l'ebraico, l'aramaico, l'arabo, è pentalingue, attenzione sull'arabo, attenzione nel limbo dantesco ci sono i filosofi della tradizione araba, quindi già un supertentomista come Dante aveva capito che la verità ha più punti di vista. Pico studia il francese, andrà appunto a Parigi, come vedremo, studia la cabala, quel ponte fra ebraismo e cristianità che lui interpreterà alla luce del cristianesimo come possibilità formale di combinazione di nomi e numeri, ma anche nel suo aspetto della cabala magico di intervento sulla natura. Fra il 1486 e il 1487 Pico va a Parigi per approfondire lo studio della filosofia aristotelica. E qui elaborò un progetto ambiziosissimo, cioè la formulazione di novecento tesi, le conclusiones, che avrebbero dovuto fornire la base per l'unificazione delle diverse confessioni religiose, raccolte sotto il titolo appunto di conclusiones filosofici, cabalistici e teologici. A tale proposito tentò di organizzare a sue spese un convegno di dotti a Roma, dove sarebbe dovuta avvenire la discussione delle sue tesi. Il progetto non andò in porto, anche perché alcune delle conclusioni furono condannate come eretiche da Papa Innocenzo VIII. Pico, come direbbe Edoardo Capatosta, non scrisse una ritrattazione di queste tesi, di queste novecento conclusioni, no, scrisse un'apologia che presentò al Papa nel 1487, dove diceva sostanzialmente che lui aveva ragione, che non si era bevuto il cervello, non si era sbagliato. Quello che lui professava nelle confessioni era giusto, cioè la possibilità di una concordanza fra le teologie e le filosofie intese come complessi di sapere. La sua fine è un giallo ancora aperto, fu realmente avvelenato appena trentenne con l'arsenico nel 1494. Badate, il 1494 è un anno fondamentale di un secolo fondamentale, il quindicesimo secolo, il quattrocento. Nel 1494 scende in Italia Carlo VIII, il quale come erede degli angioini rivendicava il regno di Napoli. La sua discesa di Carlo VIII fece a Firenze crollare il potere medicio e fece instaurare una signoria, una repubblica di carattere popolare, quella del Savonarola, che durerà ben quattro anni, questa repubblica Savonaroliana. Nel 1494 muore anche Boiardo, c'è il bel autore dell'Orlando Innamorato, se vi ricordate dell'Orlando Innamorato, il terzo libro, nel nono canto, si interrompe appunto per la calata di Carlo VIII nella penisola. Due anni prima, nel 1492, era calato nella tomba Lorenzo il Magnifico, che era stato l'arbiter degli equilibri fra i vari stati italiani. Insomma, Pico porterà nella tomba con sé una grande conoscenza, ma anche la coda di un secolo terribile. La sua opera fondamentale è l'Orazione della dignità dell'uomo, l'Orazio. Allora è un'opera alla luce della quale devono essere lette le conclusioni di cui discutevamo prima. La filosofia e la teologia, come complesso di saperi, hanno a che fare con questo problema. Nell'Orazio, Pico si domanda questo, che cosa è l'uomo? Che cosa è l'uomo come mente? Insomma, è una grande opera sulla natura, riflessione sulla natura dell'uomo. Cosa dice in questa Orazio sulla dignità dell'uomo? La sua opera fondamentale di Giovanni Pico, ricordiamo. Manifesto dell'umanesimo italiano. Homo est miraculum, dice Pico. L'uomo è quindi degno di ammirazione ed è sorprendente perché è qualcosa di eccellente fra le creature. Ma perché l'uomo è un miracolo? Questa risposta Pico la dà appunto nell'Orazio nella quale tematizza de facto il libero arbitrio. L'uomo è eccellente, è straordinario perché è mente per le sue facoltà come la razionalità che lo rendono, lo distinguono sia dagli angeli che dalle bestie. Ma è opus indiscrete imaginis. Opus indiscrete imaginis. C'è un senso di incompletezza. Cioè l'uomo è un soggetto senza una natura predefinita. Non ha né sembianza precisa, né peculiari privilegi. Non è predeterminato l'uomo né nei suoi comportamenti, né, attenzione, si va di bene, nella sua identità. L'uomo è una continua, è una cascata continua di possibilità. Qualcuno ci ha visto anche delle affinità anche con la riflessione ottocentesca di Søren Kierkegaard. Allora, l'uomo per Pico è libero. Ma attenzione, essere libero non significa, qui Pico ci tiene tantissimo a farcelo, a sottolinearlo, non significa essere onnipotenti o infinitamente spontanei. Non siamo nell'ottica del poter far tutto. Quanto siamo nell'ottica piuttosto della libertà della decisione. Siamo liberi di decidere, di optare, di scegliere come e che cosa essere. E da chi siamo differenti? Siamo differenti dall'animale. Qui possiamo fare un esempio terra-terra. L'animale, che comunque ha all'interno del nome sempre il termine anima, il gatto. Il gatto è determinato. Ha una sembianza precisa. Non può scegliere. E questo, gli animali, si potrebbe prendere l'esempio del cantiano delle api. Cioè, gli animali sono fortemente determinati. Hanno una sembianza precisa. Hanno, non possono scegliere. Come, attenzione, questo è importante, non può scegliere né la materia brutta, gli animali, né la materia, come dire, del sopracielo. Neppure gli angeli hanno questa facoltà, questa libertà, questo libero arbitrio. Neppure gli angeli, perché anche gli angeli sono inseriti, come dire, citando Battiato, in una meccanica divina, dalla quale non si possono liberare. Quindi l'uomo può più degli animali e può più anche degli angeli. Attenzione, perché adesso arriva, come dire, dopo la sviolinata, arriva sempre, come dire, quel fondo amaro del dolce. La scelta è sempre ancipite. E' sempre come dell'imitanea, duale, fra essere brutto, essere un animale, fatti non foste, a vivere come bruti, ma a perseguitare vertute e canoscenza, oppure angelico, razionale. Quindi l'uomo è padrone della sua identità, ci dice Pico, ma compadrone significa non essere un supereroe coi superpoteri, ma significa essere responsabile. L'uomo è responsabile della propria identità, di chi decide di essere. Quindi la libertà è responsabilità. L'uomo è una creatura speciale, è una creatura straordinaria che può essere bestia e può essere angelo, cosa che farà, per esempio, storcere la bocca un altro umanista, come Leon Battista Alberti, per esempio. Ma questa continua possibilità, questa indeterminatezza, sembra di sentire anche i lamenti di Kierkegaard, come naturalmente in lontananza, questa indeterminatezza naturale dell'uomo, questa continua potenzialità, porta anche a un rovescio della medaglia che richiede un conto altissimo. Cioè la drammaticità di essere in continua oscillazione, come una canna al vento, dirà Pascal prima della deletta. Determinato di volta in volta, l'uomo sarà senza fissa dimora. E qui citiamo dalla citiamo appunto dall'Orazio De hominis dignitate nella traduzione di Eugenio Grena. Adamo non hai dimora fissa né un'immagine propria né peculiare prerogativa. La tua volontà sarà la tua dimora. Quindi tu te la determinerai da nessuna barriera costretto secondo il tuo arbitrio alla cui potestà ti consegnai. Ti posi nel mezzo del mondo perché di là meglio tu scorcessi tutto ciò che è nel mondo. Non ti ho fatto né celeste né terreno né mortale né immortale perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto. Ma attenzione questa grande libertà che ti do è Dio che parla ovviamente. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti e tu potrai secondo il tuo volere rigenerarti nelle cose superiori che sono divine. Allora voi capite che il destino dell'uomo è dunque quello di essere sempre un errante nell'esperienza della vita di essere incompiuto di poter generare o degenerare. Ma riprendiamo il filo storico cioè contestualizziamo. Allora l'orazione era pensata come introduzione a questo concilio di dotti del 1487 che Pico voleva convocare a Roma per discutere appunto le sue novecento conclusiones scritte in latino filosofico tratti con lemmi filosofici tratti dagli autori precedenti si passava dall'ozorastrismo dall'orfismo per arrivare come dire a Pitagora a Platone che autori che lo faranno accusare di eresia e non faranno andare in porto questo concilio. perché Pico voleva fare questo? Perché scrisse le novecento conclusiones scrisse l'orazio? Qual era lo scopo di Pico? Pico voleva vuole convincere la chiesa di Roma la grande potenza sulla necessità della concordanza sulla necessità della pace attenzione il quattrocento è un secolo terribile prima abbiamo accenato la coda la fine del quattrocento ma è un secolo terribile che inizia con un rogo a metà secolo cade Costantinopoli qui tutto il discorso sul rapporto con l'islam diventa non più rimandabile reiterabile verso nella seconda metà mori ebrei vengono cacciati dalla Spagna quindi è un secolo in cui si vede la fine del multiculturalismo e finisce con un altro rogo 1498 di Gerolamo Savonarola quindi il quattrocento è stato un secolo impegnativo le conclusioni se e l'orazio quindi devono essere lette alla luce di questi avvenimenti se non l'importanza di contestualizzare questo è la chiave di volta quindi Pico tenta di lavorare sulla pace cioè sulla reciproca comprensione fra i saperi la teologia la filosofia il cristianesimo l'islam l'ebraismo e questo lo tentò anche Cusano vi ricordate il lavoro continuo della comparazione fra le posizioni lo tenta Ficino con questo continuo lavoro di traduzione che fa traduco quindi comparo linguaggio e idee di altri linguaggi insomma questo vogliamo che a fine contributo sia chiaro gli umanisti del quattrocento non vogliono non volevano tacere sulla loro contemporaneità vogliono dare un metodo di indagine vogliono essere non stiliti sperduti nel deserto rarefatto dei loro pensieri ma vivi responsabili della realtà effettuale direbbe Machiavelli della realtà che produce effetti politici se io voglio raggiungere il culmine della saggezza si domandano gli umanisti devo portare un mondo di pace e Pico questo sta dicendo del Papa se voglio raggiungere il culmo della saggezza io devo portare un mondo di pace di dialogo fra i saperi e di concordia fra le religioni Pico quindi è un personaggio fondamentale lo avrete inteso dalle nostre parole è un personaggio fondamentale in questo discorso la verità è una ma ha più punti di vista questo va ribadito perché questo questa è la vera essenza dell'umanesimo e poi del rinascimento badate che oggi si parla di dialogo interreligioso si pensi al cardinale Paul Popard che dovrebbe essere ancora vivo mentre facciamo questo contributo si parla di ecumenismo e via discorrendo l'umanesimo è sempre dialogo è tutto un insieme anche di grandi carteggi fra intellettuali che si interrogano in continuazione le lettere del Valla le lettere di Machiavelli importantissime le lettere di Coluccio Salutati e ora anche le lettere di Pico e qui chiudiamo oggi non a caso si parla di humanity quindi l'umanismo è ben lungi dall'essere spento o alle corde ora chiudiamo questo contributo abbiamo sforato già i 20 minuti ce ne scuserete chiudiamo questo contributo ricordando come dire che nel 2018 nella collana degli studi Pichiani sono state pubblicate per Olschke le lettere di Giovanni Pico queste lettere sono un epistolario critico preziosissimo un carteggio che abbiamo anche grazie a un'idea risalente a lontano 1994 di Eugenio Garen forse uno dei più grandi filosofi della storia storici della filosofia che abbiamo avuto nel novecento e comunque quale sia la filosofia dell'umanesimo e questo lo lasciamo proprio come suggestione a fine contributo a fine intervento quale sia la filosofia dell'umanesimo è un tema caldissimo e ancora per fortuna tutto da discutere grazie